Il suo silenzio, il suo ha parlato a poco, ha parlato in un altro modo, con lo sguardo, con i cristi e con la natura che ha parlato. Allora, edite il pacchetto. Devi dire due parole se vuoi. Ah, per favore, aspetta. Quindi, veramente, magari un pizzico di critica in questo parlo. Fare più campagna e meno stare per metterle il più bello. Questo è il... Perché l'entusiasmo che ho avuto nella cavallata... Abbiamo bisogno di aiuto in questo caso. Cioè, qualcuno che ci suggerizza, noi siamo a te. Tutti i tuoi. Ah, si viene meno sbagliato. Ho già dato, come si è un messo, che abbiamo un'idea per andare a vedere qua. E' un spazio possibile, in passata, in passata, non puoi vivere un passato. Lo sappiamo. Lo sappiamo. No, noi ci siamo ancora più vicini è stato quando... Mi raffreddiamo. No? Sì. Ok. Quello che vedo è oggi, Gina. Sì. Gina, vai! Gina! Ciao! Ciao!